In ballottaggio la carica di primo cittadino anche a San Salvo. Al primo turno, infatti, nessuno dei tre candidati a sindaco ha raggiunto alla metà più uno dei voti validi. A contendersi la poltoronna più alta di Palazzo di Città, Emanuela De Nicolis, con il 47,90% dei consensi, Fabio Travaglieni, che ha totalizzato il 42,71%. Dunque, l'ago della bilancia potrebbe essere rappresentato dal terzo candidato Giovanni Mariotti, con il suo bagaglio di 9,39% dei voti. Al microfono di Luca Pompei, De Nicolis Travaglini. Emanuela De Nicolis, la giornata era iniziata bene, a Travaglini abbiamo detto la giornata era iniziata male. In realtà poi le cose sono andate così, la forbice si è ristretta e dunque ballottaggio. Va bene comunque, perché insomma c'è una maggioranza nei nostri confronti, insomma la forbice a nostro favore, quindi io ringrazio ancora una volta i cittadini san salvesi, ringrazio tutta la coalizione, tutti i candidati che si sono stretti attorno a noi, insomma c'è un sentimento positivo in città, per cui sono fiduciosa. 15 giorni di ulteriore campagna elettorale, dove bisognerà lavorare maggiormente, considerando che qui comunque c'è stata una grande affluenza? Sì, sicuramente ci appelleremo a tutti i cittadini che magari per qualche motivo non sono andati a votare, a tutti i nostri sostenitori che dovranno confermare il loro impegno, ci appelleremo anche alle forze sane della città. E in questo c'è un riferimento al terzo contendente che a questo punto rappresenta una sorta di ago della bilancia? Potrebbe, potrebbe, perché no. Molti della sua coalizione rappresentano appunto le forze sane della città, quelli che hanno dimostrato di avere coerenza, quindi perché no, potrebbe essere lui un buon interlocutore. Il suo contendente però dice che Mariotti viene da un'ispirazione di centro-sinistra, però in politica 2 più 2 non fa mai 4. Mai, anche perché ci sono anche forze buone nella coalizione di Travaglini, quindi mai dire mai. Era una coalizione che ritenevamo inscalfibile, che 5 anni fa vinse con il 70%, abbiamo recuperato oltre 20 punti, ma soprattutto il dato importante è che il 52% dei cittadini sanzalvesi hanno bocciato l'amministrazione uscente. Quindi da domani saremo al lavoro per completare l'opera al secondo turno di ballottaggio. Quindi c'è giorni ancora di campagna elettorale, come cercherete di convincere ulteriormente gli indecisi? Abbiamo innanzitutto l'altra coalizione che non è arrivata al ballottaggio, che è una coalizione di sinistra con cui condividiamo valori, con cui condividiamo azioni programmatiche e una grande stima reciproca, per cui sarà un dialogo importante con loro e poi convincere il 33% delle persone indecise che non hanno votato. Eppure, senza salvo, valutavamo nelle ore precedenti, è stato uno dei comuni dove si è più votato rispetto agli altri comuni abruzzesi. Sì, la sfida è stata molto sentita. Noi abbiamo mobilitato molte persone che erano comunque sfiduciate anche dal mondo di centrosinistra. Abbiamo fatto tornare in loro l'entusiasmo di partecipare. Oggi 80 candidati sono pronti anche a fare campagna elettorale da domani.